È un personaggio davvero eclettico. Un personaggio che tu hai incontrato ieri, lei attivista, è conduttrice televisiva, autrice anche teatrale, è un'ex politica italiana e chi più ne ha più ne metta. Insomma una vita vissuta al massimo, quella di Vladimir Luxuria, che ieri era a Lugano con il suo spettacolo Ride bene chi ride donna. Già, ma che cosa significa ridere? Che cos'è la comicità al femminile? Allora io propongo di sentire l'intervista perché risponderà a questa domanda ma scopriremo anche molto di più. A dopo. Devo dire che la comicità femminile è che poi è relativamente molto più recente di quella maschile perché fino a poco tempo fa le donne non potevano far ridere, soprattutto degli uomini, da grandi spunti. Le donne sanno molto ridere bene di se stesse ma sanno ridere anche dei difetti degli uomini. Ridere serve a curare molti mali ma far ridere è forse una delle cose più difficili. Secondo te uno fa ridere perché c'era nell'indole o perché si impara a far ridere? Aggiungerei anche un'altra. C'è anche chi fa ridere il suo malgrado e quella è la differenza tra comico e ridicolo. Noi lo facciamo di proposito. Diciamo che ridere sì è terapeutico. Un po' di sana ironia e autoironia fa benissimo. A volte ci disperiamo per delle cose dopo una settimana che ci sembrano delle stupidaggini. Allora l'idea di prenderci un po' meno sul serio, di farci scivolare un po' di più le cose addosso, che non significa non essere sensibili, ma significa essere un po' più saggi. Vladimir, che rapporto hai con Lugano, con la Svizzera italiana? Beh, buono perché ci sono state tante volte, perché mi piace, perché è un posto meraviglioso con i suoi laghi, con le sue bellezze, con la disponibilità e la gentilezza della gente. E anche devo dire che i miei spettacoli o le presentazioni dei miei libri che ho fatto qui sono sempre stati accolti favorevolmente. Qualcuno mi ha detto, non si dice mai la fonte, che tu quando vieni a trovarci, insomma la prima cosa che fai è andare a visitare i musei. È così, è vero? Io per il mio lavoro vengo spesso portato a viaggiare, quindi transito nella mia vita da più punti di vista. Non mi fermo mai. E quando ho la possibilità, mi piace molto scoprire il territorio. E il Ticino è vero un piccolo scrigno pieno di tanti gioielli, che possono essere mostre fisse, mostre temporanee, ma devo dire anche i tantissimi paesini, anche magari sulle montagne, che sono veramente belli da scoprire. Vladimir, la tua carriera è iniziata alcuni anni fa, negli anni Ottanta a Foggia. Che ricordi hai degli inizi? Io mi sono sempre rifugiata nella fantasia. All'inizio era un modo anche un po' per sfuggire a una realtà che non vedevo così di buon occhio e che soprattutto non mi vedeva di buon occhio. Per cui per esempio ricordo sempre che mi richiudevo in una stanzetta della mia casa e immaginavo di fare degli spettacoli davanti allo specchio con un pubblico immaginario. Dopo ho avuto la fortuna di cominciare a esordire in alcuni locali inizialmente della mia città, poi dopo quando mi sono trasferita nella grande città e poi devo dire veramente sono stata molto fortunata e quindi avere la possibilità anche di fare spettacoli in posti così belli, insomma, la considero una grande opportunità. E poi ti trasferisci a Roma, studi, ti laurei e inizi a diventare veramente attiva anche per quelle minoranze che avevano difficoltà. Quel periodo come te lo ricordi? Mi ricordo quel periodo in cui le minoranze erano proprio minoranze, quasi invisibili. Sembra strano, sembra veramente una piccola rivoluzione. Oggi siamo un po' meno minoranza non perché secondo me gay, lesbiche e trans siano di più rispetto a prima ma perché ci sono sempre più persone che ne prendono consapevolezza e che non hanno problemi anche a dirlo, non a tutti, nessuno è obbligato a dirlo a tutti, ma alle persone che ti stanno più vicino. E siamo anche meno minoranza perché rispetto a prima, per fortuna, abbiamo sempre più parenti, sempre più amici e sempre più colleghi di lavoro che ci stanno vicino e ci fanno sentire a noi meno soli e fanno invece sentire più soli gli omofobi. Recentemente il caso Barilla, se ne è discusso e ho sentito che anche tu hai preso posizione in merito. Guarda, come definire l'imprenditore Barilla? Diciamo che è stato sprovveduto, per non usare una parolaccia, perché un imprenditore che invita a non comprare la sua pasta dicendo se non la pensate come me, comprate un'altra pasta, significa innanzitutto far identificare un po' troppo tutta la sua azienda che poi è un impero in un unico pensiero che è quello suo. Però poi dopo lui è stato costretto a fare un annuncio di scuse, secondo me non spontaneo, ma perché c'era una previsione di calo del 20% delle vendite ma dato che io sono una persona positiva, io accetto le scuse, non voglio stare lì a pensare perché ha chiesto scuse, le accetto comunque e quindi ritornerò a mangiare la pasta da Barilla sperando che gli spaghetti non siano mosci ma che tengano la cottura. L'Italia è cambiata? Gli italiani e le italiane sì, la politica no purtroppo, nel senso che abbiamo una classe politica che è molto resistente su leggi che riguardano la nostra affettività e la questione dell'omofobia. A proposito di politica, nel 2006 entri nel Parlamento, che ricordi hai di quell'esperienza? Sono stati due anni davvero molto intensi per me, perché io mi sono ritrovata a essere in realtà una semplice parlamentare ma con una fama più che da ministro, anche internazionale, per cui credo di aver dato una grande visibilità ai temi lesbo gay trans. Certo mi sono resa conto che esistono dei poteri forti che mi hanno impedito di avere i numeri necessari per fare in modo che poi i miei sogni diventassero leggi approvate. Però è stata una grande esperienza per me, una esperienza formativa importantissima e non escludo che in un futuro più o meno lontano io potrò ritornare a rivestire un ruolo istituzionale. Quindi questa è una notizia, quindi lo rifaresti? Lo rifarei, devo dire una questione proprio recente, ultimamente mi è ritornata la voglia. Senti, nell'Italia migliore, l'ultimo tuo romanzo, la protagonista è una ragazza disposta a fare tutto per conquistare uno spazio in tv. Ma è proprio l'Italia migliore questa? No, non è l'Italia migliore. Ovviamente io ho dovuto fare proprio uno sforzo di fantasia, di immaginazione per cercare di costruire un personaggio, una donna che per ottenere un programma televisivo va a letto col direttore di rete, perché queste cose in Italia non succedono mai. Dicevamo, no, non è l'Italia migliore, perché spesso si parla di meritocrazia, ma vediamo delle persone che ottengono dei lavori ancora per vecchi, cose vecchie come raccomandazioni, oppure diciamo scorciatoie varie per ottenere dei posti, o peggio ancora votifici, persone che ottengono dei posti perché c'è qualcuno che te li promette in campagna elettorale. L'Italia migliore che io mi auguro che sia è quella in cui viene premiata la meritocrazia e in cui non vengono dimenticate le persone che hanno bisogno. Però esiste un'Italia migliore per davvero oggi, che l'Italia devo dire soprattutto dei volontari. Ascolta, torniamo a temi più frivoli, siamo quasi in conclusione. L'Isola dei Famosi, che cosa ti ha lasciato quell'esperienza, l'edizione che ti ha vista vincitrice? Sono contento di averla fatta, l'Isola dei Famosi, perché io sono una persona, sembrerò forse immodesta, ma intelligente. E quindi credo che riesco a sfruttare e a capitalizzare tutte le esperienze che faccio. Io veramente ho attraversato vari mondi. Intanto ho smesso di fumare. Complimenti, poi mi dai un consiglio. Fino al 2008 fumavo, non fumavo tanto, però arrivavo anche a quelle dieci sigarette al giorno, per cui lì dato che non potevo fumare, per due mesi e mezzo che ho fatto l'Isola, non ho fumato e quando sono ritornata non ho sentito il bisogno di fumare. Ma tu mi puoi fumare, anche a casa puoi fumare, non sono un integralista, non mi viene voglia di fumare. Beh, sono anche dimagrita, adesso ho ripreso un po' di chili, però insomma ne ho lasciati lì 19 e diciamo che se proprio vogliamo trovare anche un valore un po' più alto, ho scoperto che persino una trasmissione così nazional popolare e anche criticata come quella di un reality, ho avuto la dimostrazione che la gente da casa, con questo televoto, mi ha fatta vincere quell'edizione giudicandomi per il mio comportamento e non per la mia, diciamo, identità né politica né sessuale. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se tu dai la possibilità alla gente di conoscerti, forse, diciamo, anche il pregiudizio può risultarmi indebolito. Vladimir, che stagione della tua vita stai attraversando? Ma guarda, io sono una pizza quattro stagioni perché secondo me ogni stagione è bella e sono anche, mi piace proprio viverle le quattro stagioni in una parte del mondo in cui c'è ancora, a parte l'effetto Serra, l'alternarsi delle stagioni. E perché credo che è vero, quando si vive una primavera c'è poi un'estate e poi c'è l'autunno e poi c'è anche l'inverno, ma dopo l'inverno c'è di nuovo la primavera. Per dirla in altri termini, a volte quei periodi più bui, secchi come un ramoscello secco, a volte invece possono far rigermogliare la speranza.